in Genesi capitolo trentuno leggiamo versetto tre poi l'Eterno disse a Giacobbe torna al paese dei tuoi padri e al tuo parentato ed io sarò con te versetto tredici io sono l'iddio di Betel dove tu ingesti una stele e mi facesti un voto ora alzati lascia questo paese torna al tuo paese natio capitolo trentadue dal versetto sei di Genesi i messaggeri tornarono quindi da Giacobbe dicendo siamo andati da tuo fratello Esau ed ora sta venendo egli stesso ad incontrarti ed da con lui quattrocento uomini allora Giacobbe fu preso da una grande paura ed angoscia e divise in due schiere la gente che era con lui le greggi gli armenti e i cammelli e disse se Esau viene contro una delle schiere e l'attacca la schiera che rimane potrà mettersi in salvo poi Giacobbe disse o Dio di mio padre Abramo di mio padre Isacco o Eterno che mi dicesti torna al tuo paese al tuo parentato e ti farò del bene io non sono degno di tutte le benignità e di tutte la fedeltà che hai usato con il tuo servo poiché io passai questo giordano solamente col mio bastone ed ora sono divenuto due schiere libera mi ti prego dalle mani di mio fratello dalle mani di Esau perché io ho paura di lui e temo che egli venga ad attaccarmi non risparmiando né madri né bambini Vangelo di Giovanni dal versetto 6 non lo prendete vi leggerò lo conoscete questi versetti 66 da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Gesù allora egli disse ai dodici volete andarvene anche voi e Simon Pietro gli rispose Signore da chi ce ne andremo Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che Tu sei il Cristo e il figlio del Dio vivente a me Signore la Tua parola riscalda i nostri cuori ci fa del bene ti voglio pregare Signore apri i cuori questa mattina apri i cuori apri i cuori solo Tu puoi aprire il cuore puoi aprire la mente io Ti prego Signore per tanti che sono in mezzo a noi di benedire la loro vita Signore sei Tu il Salvatore sei Tu che sai come fare guidami nella predicazione Amen allora fratelli e sorelle amici, amiche che siete convenute qui voglio parlarvi di qualcosa che è comune a tutti e si chiama la paura tutti quanti abbiamo avuto delle paure ci sta in mezzo a noi chi è più pauroso e chi è meno pauroso fa parte della nostra esistenza siete d'accordo? beh, chi si vuole mostrare sempre coraggioso non ha nulla di eroico francamente perché il coraggio lo devi dimostrare quando sei solo non quando stanno gli altri quando stanno gli altri mi sa tanto che ci può essere molta vanità quando sei da solo si dimostra se sei coraggioso a te stesso e basta ora qui ci troviamo di fronte ad un uomo che è solo si chiama Giacobbe è un mio simpaticone Giacobbe dovete sapere che mi è assai simpatico perché lui rappresenta tanti di noi qui seduti tanti uomini che sono seduti qua Giacobbe faceva il furbo con il Signore e noi nel nostro DNA come popolo napoletano pensiamo di essere sempre un po' più furbi degli altri siamo quelli che diciamo già capito tutto in parte riconosco dobbiamo riconoscere che effettivamente abbiamo una percezione maggiore di tanti che sono nel nostro paese però questo da un lato ci penalizza come Giacobbe Giacobbe pensava di essere furbo pensava di giocare di tante volte di di raggirare di fare a modo suo diciamo così però era un uomo fedele era un uomo fedele Giacobbe era stato chiamato dal Signore ma non Esau due gemelli perché Giacobbe aveva paura di Esau la prima cosa che mi fa soffrire vi voglio dire una cosa si può mai avere paura di un fratello come si arriva ad aver paura non sto parlando di sorella in Cristo di fratelli di la carne che si è nati dallo stesso ventre sorelle nate dalla stessa mamma si può mai avere paura di qualcuno che è nato nella stessa famiglia Giacobbe aveva paura perché proprio nelle sue vicissitudini sapendo che era stato chiamato guardate quello rubò la prima genitura ora fratelli voglio dire una cosa semplice a tutti quanti voi Giacobbe non si è rubato un appartamento non si è rubato un'automobile non ha preso il patrimonio dei genitori e se l'è preso sotto lui non è andato sul conto della posta ha cambiato il conto e se l'è intestato lui ha rubato la prima genitura che forse per molti di voi non è importante qualcuno soffre più per un furto di una propria azione si è preso la casa mia sorella si è preso si è preso un appartamento si è preso l'auto si è preso i soldi di mamma l'oro questo è successo mio padre mi raccontava che le sue sorelle avevano era scomparso l'oro quando era morta la nonna capite? voglio dire che queste cose succedono nelle case però voglio dirvi che queste cose per quanto siano importanti e disdiscevoli per chi le fa ed è brutto per chi le subisce ma c'è qualcosa di più importante che non bisogna mai cedere a nessuno e mai permettere di rubarci è la prima genitura che Cristo ci ha dato è la prima genitura che Cristo divoltare la chiesa è chiamata la chiesa dei primogeniti chi crede in Cristo diventa un primogenito io sono un primogenito ma anche se fossi terzo genito terzo maschio quarto maschio divento primogenito perché è la chiesa dei primogeniti tutti i primi con il Signore tutti i primi sia uomini che donne tutti i primi ora Giacobbe aveva usato uno stratagemma lui era stato chiamato a volte non sappiamo aspettare la benedizione di Dio e vogliamo anticipare architettare anticipare i nostri pensieri corrono veloci siamo figlioli di Dio siamo figlioli di Dio ma anticipiamo Dio e lui al fratello Esau l'aveva rubato con un piccolo stratagemma stava morendo di fame gli offre un piatto di lenticchie e dice mi dai la tua primogenitura Esau che non era era carnale significa lontano da Dio sebbene nati dai stessi genitori uno apparteneva a Dio e l'altro no è incredibile questo ma così è ho amato Giacobbe ho odiato Esau è scritto è il modo in cui si comportava Esau ma prende la primogenitura un altro stratagemma Rebecca una donna di straordinaria intelligenza lo fa travestire gli fa mettere delle pelli di cammel delle pelli di pecora passa per Esau che era peloso e si ruba in punto mentre si pensa che Isacco stia per morire si va a rubare la primogenitura va bene? fino a qui per chi non conosce la storia adesso succede qualcosa di particolare Giacobbe dopo sono passati vent'anni ha due mogli due concubine all'epoca si poteva ha tanti figli dodici figli e una figlia ha cammelli all'epoca la ricchezza era misurata in cammelli in pecore in insomma buoi tutto il bestiame rappresentava la ricchezza di allora terre era naturale stiamo parlando di 3000 anni fa fratelli e sorelle era tutto relativo a ciò che ci aveva ciò che si possedeva ora però il Signore gli dà un ordine che lui non avrebbe mai voluto sentire torna indietro da tuo fratello Signore ma quello mi ammazza Dio dice torna indietro vai dal tuo parentato Signore ma quello mi farà nero io sarò con te ti ho dato un ordine ora Giacobbe quando non poteva venire meno agli ordini del Signore e c'è una cosa l'ordine di Dio prevede la paura in Giacobbe Giacobbe servo di Dio uomo che ha sognato una scala su cui vedeva gli angeli in Betel l'uomo che ha unto la pietra l'uomo che ha fatto una promessa il chiamato del Signore ha paura ha paura possono i cristiani avere paura e avere coraggio nello stesso tempo sì quindi se tu hai paura hai tutta la compassione di nostro Signore Gesù Cristo Pietro ha avuto paura Elia ha avuto paura uomini di Dio forti Giosuè fatti animo non avere paura non c'è nessuno che non abbia avuto paura però insieme alla paura non venivano paralizzati la paura è uno stato di apprensione che indica pericolo ma la paura non li bloccava però dovevano ubbidire al Signore era una paura non paralizzante era una paura operante hai paura hai paura a casa tua hai paura delle malattie hai paura che non ce la fai a fine mese sì lo so è normale avere paura però ti posso garantire che se seguirai la volontà di Dio se abbandoni il volante della tua vita nelle mani di Dio Dio ti benedirà questa è la storia di Giacobbe è la storia di un uomo che a un certo punto Dio deve liberare dal suo modo di pensare dopo questo percorso Giacobbe gli sarà cambiato il nome non si chiamerà più Giacobbe ma si chiamerà Israele lo Stato di Israele è l'unico Stato che porta il nome del Signore che ha dato Dio ed è stabilito è scritto nella parola che lui farà tornare tutti gli esuli ed ecco perché si è andato giovedì a Roma per aiutare gli esuli di Israele gli ebrei diffusi in tanti posti di ritornare in Israele prima tornano prima torna Gesù amè questo è il punto questo è il percorso della storia e della volontà di Dio già questo dovrebbe far credere a tutti in Dio perché la parola di Dio si è avverata con una puntualità incredibile va bene ora Giacobbe ha paura Dio gli ha detto vai ora voglio dire una cosa Giacobbe non sa la reazione di Esau tu non sai la reazione dei tuoi nemici non sai la reazione di quelli che gli altri faranno non sa se Esau come si comporterà ma di solito la paura ti fa pensare sempre al peggio Giacobbe divide in due tutti i suoi gruppi e dice se muore uno l'altro sopravviverà cerca di usare ancora gli stratagemmi ma a un certo punto fa una preghiera si abbandona a Dio lui ha scelto guardate voglio dire a tutti quanti voi Giacobbe ha scelto di non difendersi non userà lance non userà frecce non userà spade non userà pugnali Giacobbe depone le armi significa per te non userà la lingua non userà gli avvocati non userà di farsi ragione non chiamano parenti doppi parenti tripli parenti lui si abbandona Signore quello che succede succede io obbedirò a me è meraviglioso questo vero tremila anni fa uomini del genere senza le nostre ricchezze decidevano di ubbidire a Gesù di ubbidire a Dio quante volte Dio ci deve chiedere di decidere per Lui di seguire Lui decisi per il Signore Gesù decisi c'è sempre una parte che è indecisa facciamo diciamo forse chissà no se ci sono frutti sono cristiani se non ci sono frutti non sono cristiani un cristiano porta frutto e si vede si vede dal volto dagli occhi dalla vita che ha dalle azioni dalle parole chi non ha questo non è cristiano decisi per il Signore cosa vogliamo fare vogliamo decidere di fare la sua volontà abbandonarci a Lui e perdere qualcosa perché Giacobbe ha rischiato di perdere non perse niente Dio lo benedisse ma aveva aveva rischiato di perdere e lui fa una preghiera Signore io non sono degno di tutte le tue benignità amè fratello sorella voglio dire una cosa tu reputi che quello che hai sia forza tua o sia un dono di Dio allora se è dono di Dio ricordati io non sono degno delle tue benignità cammina sempre con l'umiltà nel cuore non sono degno delle tue benignità è vero io non sono degno e di tutta la tua fedeltà perché nonostante tu tu non sei stato fedele al Signore Dio è rimasto fedele tu tu non sei stato fedele e non raccontare bugia al Signore perché ognuno di noi non lo è stato ma Dio è stato fedele la grandezza di Dio e che Dio non può ascolta questo non può rinnegare se stesso ha dato la sua parola ed è per noi amè Giacobbe viene al dunque ha paura che il fratello uccida gli faccia del male ed è e lui sceglie di non difendersi ma si abbandona al Signore lascia il volante dell'auto e lascia andare l'auto come deve andare e comincia a fare la volontà di Dio senza guardate la nostra fede è che noi non sappiamo domani Dio che farà Giacobbe non sa domani Dio che farà se la tua fede già sa tutto ho l'impressione che è una fede molto programmata la nostra fede deve essere Signore io ti seguirò non so quello che tu farai ma il mio bene è fare la tua volontà questo ora la parola che riceve Giacobbe è una parola dura decisa lascia questa terra di Labano stava da un suo parente dove aveva preso mogli e torna al tuo parentato hai mai ricevuto una parola decisa da parte del Signore brusca hai mai sentito la parola di Dio quando taglia taglia le gambe dice che vuoi fare o con me o contro di me così dice il Signore Gesù Gesù non dice no sediamoci facciamo una trattativa non c'è trattativa non c'è non c'è trattativa o con me o la pensi come me o stai contro di me dice il Signore Gesù o sei d'accordo con la mia parola o sei contro la mia parola o sei d'accordo nel vedere il mio sacrificio dice Gesù o non sei d'accordo non c'è nessun cosa non c'è discussione o con me o contro di me e quando Gesù vi ho letto quel brano dice che bisognava che stava alla festa di Gerusalemme dice dovete bere il mio sangue poi sarebbe la santa scena il vino e mangiare la mia carne e quindi il corpo di Cristo far parte del suo corpo molti dei suoi discepoli dice in Giovanni 6 molti dei suoi si allontanarono ma Gesù è stato l'unico uomo fratelli e sorelle l'unica persona che non ha ma avuto paura perché lui era nella perfetta volontà di Dio Gesù non aveva paura non aveva sapeva che tutto era nel disegno nel controllo di Dio tu credi che Dio ha il controllo di tutto credi lascia andare lascia andare lascia andare dai la tua testimonianza di la tua parola giusta al momento opportuno porta una parola di pace ma lascia scegliere le persone la via perché questo significa lasciar fare a Dio la sua volontà non costringere le persone non indurle neanche io vi costringo questa mattina vi dico semplicemente che se rifiutate il Signore state rifiutando Cristo e non è una cosa bella per la tua vita perché chi rifiuta chi crede in me non sarà mai condannato di gestione ma se non credi in lui sei già condannato questo dice la parola di Dio ora Gesù non ebbe paura di perdere i discepoli non corse a destra e sinistra non erano i suoi non erano i suoi non erano i suoi e allora disse ai discepoli la stessa parola decisa che aveva detto a Mosè a Giacobbe torna al tuo parentato Giacobbe lascia a Mosè il signore a un certo punto prende una parola e dice che vuoi fare coraggio che vuoi fare cosa vuoi fare e Gesù disse volete andarvi erano rimasti solo dodici volete andarvi neanche voi Gesù espone da tutti la possibilità se vuoi rimanere con me è la tua scelta volete andarvene anche voi o pensate di farmi un piacere a stare con me è Gesù che ha fatto un piacere a stare con noi è Gesù che ci ha dato la grazia noi siamo onorati di credere in Dio amè siamo fieri di credere in Dio il film ieri sera vi ricordate gli dissero a David Wilkinson alza la Bibbia non te ne hai vergogni no allora alza la Bibbia e gli fecero la foto non abbiamo nulla da vergognarci chi crede in Dio è quanto di più bello possa testimoniare a questo mondo che non ha luce che è perduto senza Dio credere in Dio comporta applicare la volontà di Dio a noi stessi credere nella sua parola avere pazienza avere amore avere giustizia e tante belle cose ma voglio terminare con la parola che disse Pietro per tutti coloro che credono in Gesù allora Pietro rispose dobbiamo ringraziare il Signore per questi uomini per questi apostoli che si fecero maltrattare ma non si mossero da Gesù e noi prendiamo esempio da loro neanche noi ci muoviamo da Gesù a me io non mi muovo Pietro disse Signore a chi ce ne andremo abbiamo conosciuto tante cose abbiamo famiglia avevamo lavoro abbiamo saputo sentito tante storie in tv sul web Signore ma chi ce ne andremo noi solo quando sentiamo la Tua parola la nostra anima ha pace solo Tu hai parole di vita eterna Signore sono le Tue parole sono stabili non è una gioia effimera si ti vedi i film dura due ore poi è finita c'è la vita ma le Tue parole sono eterne la Tua consolazione è eterna il Tuo progetto è eterno non è fine a se stesso di una giornata un'ora due ore tre ore no le Tue parole hanno vita eterna significa che adesso che esco dalla Chiesa io me le porto con me io me le porto con me me le porto a casa mia perché la Tua parola sta a casa mia io gioisco con la Tua parola e sento e anche se faccio tutti i lavori che devo fare in casa che lavorerò qualunque cosa ma la Tua parola porta frutta e viva dentro di me mi hai dato acqua viva a me a me Grazie a tutti